Siamo a Milano, al Circo della Stampa, dove oggi è stata presentata un'importante novità per i quasi 5 milioni di pazienti italiani che soffrono di broncopneumopatia cronico-ostruttiva, in sostanza la bronchite cronica e l'enfisema, anche se poi ci sono altri aspetti in questa patologia. E noi ce la facciamo raccontare dal professor Blasi, ordinario di malattie respiratorie all'Università di Milano. Allora, professor, iniziamo appunto dalla novità. Di che cosa si tratta esattamente? Si tratta di una nuova associazione tra due nuovi farmaci, che sono il vilanterolo e l'umecridinium, che sono due broncodilatatori a lunga durata d'azione, uno che agisce sul recettore beta 2, agonista dei recettori beta 2, e l'altro che agisce sui recettori invece colinergici ed è un antagonista dei recettori. L'associazione dei due è una associazione fissa, monodose giornaliera, e ha il vantaggio di associare questi due farmaci e quindi di ottimizzare quella che è la broncodilatazione, proprio agendo sui due sistemi fondamentali di controllo e di regolazione del tono muscolare nel bronco. Professor, normalmente in terapia si usa un approccio graduale. Quando un farmaco non funziona, se ne utilizza un altro più potente oppure se ne associa un secondo. Qui invece l'idea di base, mi pare di capire, a meno è stata spiegata così, è quella di iniziare fin da subito, comunque anche in fasi precoci, con la doppia broncodilatazione. Qual è il significato farmacologico e clinico di questo tipo di approccio? Diciamo che partire con i due broncodilatatori in alcuni pazienti può essere vantaggioso, in particolare i pazienti che tendono a perdere funzione rapidamente. E quindi non è per tutti, ma certamente è un'arma in più che consente di controllare al meglio quello che è il decadimento funzionale dei pazienti. Agire sui due sistemi di controllo del tono broncomotore è certamente vantaggioso in quello che è il controllo generale del flusso attraverso i bronchi e quindi un potenziale vantaggio per il paziente in termini di mancanza di respiro, di capacità di esercizio, che ovviamente aumenta in maniera significativa e aumenta in maniera maggiore rispetto al singolo componente e questo è stato dimostrato da diversi trial clinici. Ecco, l'effetto è solo sui sintomi e anche proprio sulla funzione respiratoria e quindi sulla capacità del polmone appunto di effettuare lo scambio gassoso? In realtà agisce sia sulla sintomatologia che sulla funzione. Infatti i dati dei trial clinici dimostrano un incremento della funzione respiratoria in termini di FEV1, cioè di flusso espiratorio massimo al primo secondo, rispetto ai singoli componenti e rispetto al placebo e d'altra parte un miglioramento di alcuni dei parametri fondamentali, sintomatologici, quali gli indici di dispnea. E dal punto di vista della tollerabilità e della sicurezza, che dati abbiamo? I dati sono molto buoni. Se noi confrontiamo l'associazione dei due farmaci rispetto ai singoli farmaci, il rate della frequenza di effetti collaterali è sostanzialmente sovrapponibile. Quindi in realtà aggiungere un farmaco all'altro non comporta un aumento degli effetti collaterali, ma comporta una migliore attività e migliore efficacia senza aumentare gli effetti collaterali. Ecco, quello delle associazioni cosiddette LABA-LAMA, quindi dei due broncodilatatori, è un trend, diciamo così, oramai mondiale. In Italia esiste già una formulazione di questo tipo, adesso ne esce una seconda e ne sono attese altre due nei prossimi 12-24 mesi. Qual è il significato globale appunto di queste associazioni e come secondo lei potranno cambiare l'approccio al paziente con BPCO? Beh, innanzitutto avere un'altra arma nella faretra o un'altra freccia nella faretra è sempre una buona cosa. La proprietà terapeutica è un punto fondamentale che va senz'altro migliorata in maniera significativa nella BPCO, dove la carenza di diagnosi e di corretto approccio terapeutico è segnalato da tutte le raccomandazioni internazionali e nazionali. E avere a disposizione l'associazione di due broncodilatatori certamente consente un migliore approccio terapeutico in quei pazienti soprattutto dove la perdita funzionale è accelerata. Una piccola nota pratica, il farmaco lo possono prescrivere tutti o solo a pannaggio dello specialista e con quali, tra virgolette, regole? La regola è il piano terapeutico, che quindi può essere prescritto solo dagli specialisti, ma con un piano terapeutico molto snello e molto rapido da compilare. Una volta che il piano terapeutico è stato compilato dallo specialista, il farmaco può essere prescritto in fase successiva anche dal medico di medicina generale. Quindi direi che il problema non è il piano terapeutico, che anzi propone in fondo una migliore diagnostica e una migliore appropriatezza terapeutica per il paziente con la BPCO.